In cardinato in aula il piano rifiuti, ospedali di comunità, l'avvio non prima del 2026. Gli studenti piemontesi in visita al Parlamento europeo e al Quirinale. Ben trovati a una nuova edizione di Consiglio News, il format è privo di immagini e interviste ai politici secondo quanto disposto dalla legge 28 del 2000 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e referendari. Si è svolto in aula il dibattito generale sul piano rifiuti, si cerca l'accordo tra maggioranza e opposizione sul testo il cui esame proseguirà nella seduta di martedì prossimo. In un unico documento di pianificazione si riuniscono il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e quello di bonifica delle aree inquinate che fino ad ora erano stati adottati separatamente. A spiegarlo in aula l'assessore regionale all'ambiente nel corso dell'illustrazione del nuovo documento sulla gestione dei rifiuti. L'assessore ha sottolineato che il piano ha una prospettiva fino al 2035 e prende in considerazione gli obiettivi nazionali e comunitari da raggiungere. Per quanto riguarda i rifiuti urbani si punta a una riduzione della produzione complessiva, a un incremento della percentuale di raccolta differenziata all'80%, al raggiungimento di un tasso di riciclaggio del 65% e a una riduzione della produzione dei rifiuti urbani residuali sino a 90 kg anno per abitante. La termovalorizzazione verrà utilizzata solo quando non sarà possibile il recupero di materia, con conseguente riduzione del conferimento in discarica di rifiuti inferiore al 3%. L'approvazione del piano costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti della comunità europea nell'ambito del programma regionale FESR, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2021-2027. Nel corso del dibattito generale il capogruppo della Lega ha parlato di un piano moderno per gestire i rifiuti nel modo migliore. Si deve spingere per l'economia circolare massimizzando la raccolta differenziata. Per il gruppo Partito Democratico il Piemonte è in ritardo di 15 anni sulla raccolta differenziata, ponendosi al nono posto su scala nazionale. Il vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle ha sottolineato che sono stati presentati degli emendamenti al testo per suggerire obiettivi più performanti. In chiusura del dibattito l'assessore per venire incontro ad alcune richieste dei gruppi consigliari ha chiesto una settimana di tempo per rimodulare il piano il cui esame da parte dell'aula proseguirà martedì prossimo. Ospedali di comunità all'avvio non prima del 2026. Nell'ambito dei question time il Partito Democratico ha espresso preoccupazione per la mancanza di fondi e personale. Quali azioni intende mettere in atto la regione per garantire l'assunzione del personale per gli ospedali di comunità e la disponibilità delle risorse necessarie all'avvio e al funzionamento di queste strutture? Questo l'interrogativo che il gruppo Partito Democratico ha rivolto alla giunta regionale nell'ambito dei question time. Per medici, infermieri e altri operatori da impiegare nei circa 400 ospedali di comunità su tutto il territorio nazionale serviranno non meno di 239 milioni di risorse che non risultano avere copertura nel PNRR. Secondo la programmazione territoriale approvata lo scorso febbraio 2022 in Consiglio regionale il Piemonte avrà 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. Nel rispondere all'interrogazione l'assessore regionale alla sanità ha precisato che l'attivazione a regime degli ospedali di comunità è prevista per il 2026. Al momento, ancora precisato l'assessore, sono stati definiti gli elementi strutturali e organizzativi e di sviluppo edilizio degli ospedali di comunità ma non sono ancora state configurate le modalità di supporto dei diversi professionisti operativi nelle strutture. Sono tre le nomine votate dal Consiglio regionale durante la seduta di mercoledì. Sandra Vivalda è stata nominata membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia Montis Regalis Onlus. Raffaele Petrarullo è stato invece nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio Onlus. Infine, Roberto Moe e Candido Pirri sono stati disegnati membri del Consiglio scientifico dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Proseguono i viaggi premio per gli studenti e le studentesse vincitori dei concorsi indetti dal Consiglio regionale. Gli studenti vincitori della 39esima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, istituito dall'Assemblea Legislativa Piemontese attraverso la Consulta Europea per gli allievi delle scuole superiori della Regione, hanno visitato le istituzioni europee a Bruxelles. I ragazzi e le ragazze, accompagnati dal consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza con delega alla Consulta Europea, hanno scoperto dal 25 al 28 aprile il mondo del Parlamento Europeo, visitando l'emiciclo e il Parlamentarium, il più grande centro visitatori parlamentare d'Europa. Un viaggio attraverso la storia e l'integrazione europea per scoprire come funziona il Parlamento, come vengono approvate le leggi e conoscere le sfide che attendono i Paesi membri. Una cosa che sicuramente mi ha colpito di più dell'emiciclo è stata la quantità di persone che ci sono là e che lavorano a una sola mozione. Un'altra cosa che mi ha capito è la quantità di lingue che si parlavano, quindi c'era chi parlava la prima madre, l'ingomadre, c'era chi parlava l'inglese per far spiegare gli altri, c'era chi parlava italiano, c'era chi parlava l'unico solitaneo. Altra tappa è stata Palazzo Berleimon, sede della Commissione Europea, dove sono ospitati gli uffici di tutti i membri della Commissione e i loro gabinetti. L'ufficio del Presidente e la sala di rappresentanza della Commissione sono al tredicesimo piano. In particolare la sicurezza all'interno, una sicurezza molto pesante, un doppio controllo prima di entrare e anche la funzione della Commissione che prima non avevo ben chiaro. Viaggio premio a Roma da giovedì a sabato invece per gli studenti e le studentesse vincitori dell'undicesima edizione del concorso Cultura della legalità ed uso responsabile del denaro, bandito dall'Assemblea legislativa piemontese attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento in collaborazione con il MIUR. I ragazzi visiteranno il Quirinale e incontreranno i parlamentari piemontesi nella biblioteca del Senato Giovanni Spadolini. Ad accompagnare gli studenti, due consiglieri dell'Ufficio di Presidenza, con le deleghe all'Osservatorio Usure e alle iniziative per la gioventù. I vincitori che partecipano al Viaggio Studio sono studenti delle superiori provenienti dagli istituti e in Audi e da Vinci di Alba, Majorana e Darwin di Torino, Fauser di Novara. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie! 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 Grazie!